allora ragazzi partendo dal presupposto che ho visto sostanzialmente che c'è questo nuovo gioco nel senso era già stato annunciato da un bel pezzo e qui parliamo di bodycam che sembra veramente una figata atomica tipo su steam sui 30 euro una cosa del genere quindi ci può anche stare a livello di prezzo sembra davvero davvero figo e iper realistico cioè a livello di grafica è veramente iper iper realistico io non poi mi dovrò un attimo informare avevo già visto qualche gameplay qualche qualche commentary in me in merito però c'era che effettivamente quando ho anche sparate a qualcuno e lo fate secco via dicendo è impressionante la cosa cioè sembra veramente veramente di di sparare a qualcuno nella realtà perché la grafica così fotorealistica immaginatevelo in vr ecco quello il futuro dei gaming quello è il futuro del gaming perché il prossimo passo sono gli ologrammi il prossimo passo sono quelli ragazzi quindi c'è poco da fare poco da fare allora io vado a partire partire con un ritorno e perché un ritorno in singolo come l'altra volta però permette che io ritorno sono senza mani cioè io ritorno in è come se è come se non giocassi cioè faccio veramente che non ho proprio le le capacità cognitive per riuscire a a giocare essendo che gioca sempre in multi come come ben sapete dove c'è un po di di skill qua basta che la campi dietro un muro però ogni tanto voglio cambiare perché perché è giusto se non mi spacciono mi rompe i coglioni allora qua nell'evento io vedo che mi mancano tipo un più o meno 900 di questi e internet è un po un po di stile di stile di qua che palle madonna cioè si più o meno sui 4.000 due coglioni c'era quando finisco quasi prima sto qua che ombra grazie brother grazie brother anche tu sei bellissima tesoro beccati questo guadicino no peccato cavolo peccato se no ti facevi qualche game mi sto facendo guarda mi sto facendo un rebert random in singolo così a caso e poi attacco con i molti adesso sono stavo cercando di invitare tev e la ciurma per vedere se c'erano tev l'ho visto provare di invitare anche se ormai mi parte qua tanto robbie non gli ha fatto un caldo è sempre ricordo adesso vedi alle 4 credo sia il momento di andare a letto credo che non fosse già il momento forse due ore fa se no se non fai la versione la versione qua di cod zombie per non fai la parte dello zombie domani mattina bello brother dai buonanotte ombra grandissimo grandissimo eh sì 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 mi capano quando si dorme qualche ora poi poi la si sente la si finta la donna quanto quanto è no sense code raga quanto cazzo no sense uno mi spara e mi fa meno danno di quanti di me che gli do il legnato la corbega è in sua line Revo il Cobra God! Ora, essendo che non conosco neanche la mappa, andò a cazzo proprio. Vediamo un po'. Devo arrivare prima degli altri. Ora mi dice che l'altro c'è qualcuno. Allora, essendo che siamo tutti contro tutti, vedo già la legione di camper ovunque. Ora mi necessita questo, forse è un po' meglio. Vedete sì. Ah, e questi campioncini sono utilissimi. Questa mi sembra una cosa. Subverter cos'è più? Un... Ma ne dov'è? Ah no, questa è una cosa e questa è un'altra. Zanzara ostile in funzione. No! Madonna! Porca... Che non gira, Dio caro! Madonna! Non è girato... Sono un po' stronzo, ragazzi. Non è colpa mia. Mi si è bloccato il mouse contro la tastiera, Dio caro. Il buco è un coglione. No, vabbè, è così. Sto volando. Ma dammi basta trego un attimo. F***a, che stress... Che stessa cazzi! Madonna! Che paleo! Cioè, comunque, ritornare giù è una merda proprio. Poi non riesci a capire dove cazzo eri precedentemente. Gatti in arrivo! Sì, buono. Oh, ma non si... Porco... Cioè, mica ragazzi, i patti non si capisce da dove cazzo arrivano! Hai no modo a sto pezzo di m*****a? Ma non sei sabi, Dio cari. è vero che si ci resta qua vaffanculo madonna è proprio analista bellissima bellissima grande riprovo 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 comunque in no sense devi veramente conigliarla fino all'ultimo secondo raschiare tutte le armi possibili massimo vaffanculo minca fammi giocare mappa attuale posso uscire di occhialo poi te ciao tev mi senti ora ti sento vado hanno fatto una partita a rebirth per radiocare veramente c'è la gente che non so come faccia a divertire cioè magari quando sei in team va bene ma quando sei da c'è quando sei in da solo sono tutti nascosti dappertutto nella casa solo porca troia te ti giuro fai conto che prima abbiamo fatto una partita e abbiamo startato in due contro quattro no vabbè proviamo a vedere ora io insomma ogni tanto me la sviniavo fino a fatto due kill dopo sono morto mentre sono lì che guardo c'è il mio compagno che c'è un nome strano non è anche tipo mossarellina e giocava con lo scudo con lo scudo si era messo in un angolino dentro c'è la casa quella di rebbe al piano terra sono passati due uno l'ha messo a terra quell'altro si sta piastrando è arrivato fuori lui due mitragliate ne ha fatti fuori tutti e due è arrivato un altro è andato dietro con lo scudo l'ha fatto fuori e ho detto ah sono buono anch'io a fare delle kill così allora si ma perché fondamentalmente il gioco di per sé è così strutturato nel senso cioè io prima tipo picchio uno a colpi di mitra ma sai tipo body no quindi do le mazzate col mitra corpo a corpo e lo uccido questo mi spara e non mi fa un cazzo cioè assurdo c'è lo vuoi però ho provato a fare uno dei berti ho detto vabbè facciamoci uno dei berti in singolo che non mi dispiace in singolo però ti giuro c'è l'assenza è diversa infatti mi disorienta proprio la cosa allora ecco contiene ma il senso di farmi risuscitare un metro c'entra le centrale ma vaffanculo oh e non muore è arrivata la giornata della gente che non muore cazzo mi stanno ammazzando tutti e io ho fatico un po' a fiderli ma guarda quello lì ah ce l'ha fatta sto coglione tanto mi sa che una sera perché io vivo mettiti in un angolo e spada uno dietro ok c'entra come c'entra oh c'entra oh c'entra la figlia di puttana oh c'entra la figlia di puttana oh c'entra la figlia di puttana madonna basta sto qua oh no mica c'è quello che non si riesce a prendere ragazzi oh c'entra la figlia di puttana ancora non c'entra la figlia di puttana ancora non c'entra la figlia di puttana oh c'entra la figlia di puttana ecco vado a sbloccare la carreta ma la vedo due addio la zanzara di merda oh c'entra la figlia di puttana ma nooo 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 attacco aereo alleato in zona ma nooo vabbè magari c'è passato on pick della vita facendo accetto a te grande matte vieni in game dai mica ho bisogno che sono girato un secondo è arrivato la spada cino l'accoltellatore seriale porco diaz che non guardano nessuna parte o non riesco a giocarla via a sinistra via a sinistra destra 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 porca puttana vieni in game matte vieni in game che ci tiene un po' di compagnia guarda la nostra scema ma quant'è alta dio caro ventissima mi sto apprezzando dunque che schifoso ma che verde guarda la nostra scema ma quant'è alta guarda la nostra scema ma quant'è alta che stai con la casa vabbè uno l'ho fatta ma mamma non sto a lisitare guarda che è il missile? ok l'ho tirato a muzzo porca troia l'agente gioca a caso qua oh quella fiesa miesa è impossibile da uccidere gianzaro nemica assicurata dimico prende alfa porco dio dio caro pezzo di carta di nubia stiamo prendendo bravo e me lo triggiano, Via Light guardi alleatro in zona non ci credo non ci credo Comunque io non muoio, adesso è veramente lui da ammazzare No, 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 mi sto sparando un caricatore, guarda Sono un po' grande Arrivano ad Alpha Porco Dio, madonna Dio, basta Dai, laga, però, porco Dio, cioè, ma come cazzo mi cade, Dio, che è Madonna, che sofferenza, raga Che merda Madonna, ma i compagni proprio andavano a caso, cioè, un senso logico zero Vabbè, oddio, in tutta la lobby non è che ci siano dei risultati eclatanti, però Fammi sbloccare un po' Sto andando avanti col pass Con il giga pass Vedo, l'ultimo una cosa, andiamo a vedere qui Hai visto il video di Di Jesus e di lomba? No Hai fatto venire la pelle dell'occo, non l'ho visto Perché? Hai fatto venire la pelle dell'occo È il video quello che ho mandato oggi C'è, per esempio, sto qua, sto ragazzo che ha montato sto video Perché ha detto che è una sera, così, a caso, ha acceso C'erano loro due che giocavano Si è appassionato, dopo l'ho incominciato a giocare a COD, no? Sì E' bellissimo quel video C'è, proprio, vedi loro che Così per scherzo, no? Incominciano a giocare, poi si caricano a vicenda Poi uno fa C'è Jesus che è fuori di testa Invece quell'altro che gli dice No, no, stai qua con me Sì, sì E poi va a ammazzare gli altri Ancora in Worldzone 1 E alla fine vanno a vincere il torneo Solo da, boh, 15.000 dollari, mi sembra che sia A testa È bello, è da vedere I dollari, insomma, è una bella giucretta Cioè, in uno gli hanno fatto 56 kg, infatti, in due Già? I Warzone Sì Vabbè, diciamo che oltre al gioco hanno comprato anche i cheat Perché Non so che lobby si trovavano, addio buono Perché dovevano essere veramente Eh, ma secondo me su Worldzone 1 era diverso, sai Era più Cioè, c'era più squilibrio, no? O erano troppo bravi O erano troppo Debole Sì, evidentemente si sono trovati delle lobby assurde Era il periodo, secondo me, che tanti hanno incominciato anche col discorso del Cogno Oh, una mappa migliore dell'altra Vabbè, Tokyo non è proprio tremenda tremenda Airborne alla fine è quella dell'aeroporto, quindi Ma non c'è nessuno in game, cioè, ho visto che non c'è manco Nemesis Buonissimo Io faccio questo e poi vado a nannare Vai già nanna Insomma, la merda Sei che te domani mattina lavori Ma se No, anche se vado Non vado a letto tardissimo Dopo domani sera faccio più tardi L'hai visto il... l'hai visto bodycam? Eh, ti ho detto, l'hai visto, ti piace? Cazzo, è figo, tipo, no? Però sai cosa? Ho visto la recensione di... Ma si chiama? Rosspon, mi sembra che sia E' uno che gioca a Tarkov Sì? E dice che sì, è figo all'inizio, però dopo incomincia a stufare Perché i movimenti sono diversi Mi riempie un po' la cazzo di cane Eh, quella è vera Quello è vero, cioè, nel senso La mira è come se fosse molto realistica Cioè... Comando perso Però lì Oh, sono sempre in due questi, porca proia U avvi nemico in zona Soprima presa, confermata Dove cazzo era sto coglione, porco di... Ma porca troia, ma uccidi lo cazzo Di merda Possibile che non l'ho deciso Ma che colpi li devo sparare Ma quell'altro che gira con la spazza Andiamo a mattare sto bastardo qua Ah, l'ha fatto Ho fatto il giro a tono casca al mondo Per arrivare Che shot ansia Quello lì, lì sopra, se l'ho toccata Guarda, l'importante è aver ammazzato quello lì Ho fatto queste mappe Che... Porco di Dio Vuoi girare, Dio caro? Madonna Che palle, oh Oh, Monster Cidra C'è impossibile ucciderlo Che palle, ah, questo cazzo di... Dio stacanovic Bon pit Colocchè, passando lì? C'è Deve ter velato devo cercare di sbloccare tutto l'evento lo sapevi sto posto è la merda ma ho fatto fuori quel trucco ma che cazzo mi mettono i compagni ma c'è un sacco che io ho vi questo non c'è più munizioni sotto di qua sempre cristo dio ma perché mi vengono dalla caccia sempre di pena porco di ovviamente ragazzi di ocale cioè possibile che gli passa a mezzo la gente ma nessuno che gli spara puttana troia è pure bianco di equilibrio ma dai c'è bra città sicuro io che ho città il nemico sta vincendo il tempo scorre uab nemico attivo il numero sopra dici uab nemico in zona oh li tidi un po' mi fai il po' di blocco coglione oh c'è vibra è la sopra vediamo un po' se vediamo un po' se la faccia riesco a farlo su di scendendo certo porca toia puttana sto bastardo non l'ho anche visto ma attento direttamente no porca di quella puttana cosa mi sono alzato devo sempre morire così oh mi tiri i colori c'è bra mi tira due scale che muoio possibile sono quelli che se c'è è qua è qua non sparano mostra il città guarda sicuro come l'oro sento attento guarda guarda e virato e che non mi si letto va come ha fatto questo a farmi con la sua arma mi fa incazzare che riescono sempre a fregarmi porca 3 non l'avevo visto madonna staggiano nel cazzo io da sta scimmia di merda ma guarda che non l'ho preso che ti venisse ma raga ma io non siamo sedi qua o si fanno passare in mezzo di un po questo che mi corre dietro col coltello dai però uno gli passava in mezzo uno gli passava in mezzo dio buono ma è scoglia tu farai se l'ho scritto non per te comunque dai siamo in 40 nel invito se vuole venire dove in gioco l'invito sempre ma non viene mai veniva qualche volta mix e su di tono braids nel menu però non mi dice niente è che effettivamente è tardi mi sono collegato che mancava 10 alle mezzanotte di buono tanto volevo fare tante cose oggi ne ho fatto un cazzo se quando uno proprio procrastina se la mina ecco sono io quello sono proprio io che tra una cosa e l'altra poi di buono ti stanno cioè se non si combina mai una sigla una sigla bene c'era Matte Matte che mi ha scritto in sulla chat della stream ha detto di venire in game però si vede che si vede che nulla è venuto voglia di ah stiamo comunque stiamo guardando che giocano tutti con la sense bassa pad si ma perché da pad non è una question di rotazione della mira la pad non ruota la mira la pad è come se tu ti muovessi come se tu fossi in macchina no? cioè tu giri il muso però insieme alla macchina hai capito? cioè tu quando quando fai una curva col pad ma anche prima stavo guardando coso Askers e lui gioca con con 800 di DPI bassissimo e 4 mi sembra di senso ma è troppo poco madonna io ho 6400 e io ho 2004 diciamo 2002 tutti gli obiettivi vanno catturati e di sì prendiamo bravo oh che strage la lettera telecomandata ho sbloccato nooo appena avevo sbloccato la torretta io ho che cazzo c'è uno con lo scudo l'ho visto l'ho visto vuole prendere il cazzo di tutti gli obiettivi forza siamo sull'obiettivo bravo prendiamo Charlie eh figa siamo sull'obiettivo siamo un po' in troppe Charlie sicuro prendiamo bravo prendiamo Alpha il nemico catturato fai mettere la torretta no fai mettere sta cazzetta torretta torretta porca di troia la troia ma vai a fare in culo no 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 torretta porco dio torretta telecomandata fuori porco figlio di puttana avevo appena messo la torretta bastardo me l'ha rotta subito sto coglione di merda li ha guarda dio mio li disintegro prendiamo Charlie prendiamo bravo obiettivo Charlie al sicuro puttana per chi bastate di me siamo sull'obiettivo bravo siamo sull'obiettivo Alpha prendiamo bravo va bene mi sedete a quello che si merita no quel cazzo di cosa ho detto un paro che coglione porca troia porca piccola puttana c'è alcun altro che si è messo dinosì con lo scudo bravo calzaro stile in funzione uabine micro stona siamo sull'obiettivo bravo gravi gestorna di bo stiamo sull'obiettivo Alpha uo pregiano bravo fanno spicciare madonna che mi hanno seguito sto bastardo infame schifoso ancora sto qua e dai col pompa bastardo no era detto il cambio con lo scudo di acampa che roba no ah quello con lo scudo di acampa è un po' fuori è un po' triste ho capito un cazzo questo cammino è un demone raga un demone un demone dai però mi ha in te raga stiamo volando delle notevoli sberda a destra e a sinistra comunque ah c'è una torretta nemica dio a click ok no 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 ah 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 dai quello con lo scudo di accedere da stancii siamo sull'obiettivo bravo perdiamo alfa parco diaz oh te lo aggancia a caso in sto gioco di merda dio po' non pensa di affrontare me con la spada a corto raggio sei un pazzo donna sto qua vestito da guarda no non l'ho visto ma non era questo qua tu con lo scudo può fare come son dietro al muro porco diaz son dietro al cazzo di muro dio dai oh tu con lo scudo mi piace mi piace che non è un pazzo di muro tu con lo scudo non è uno scudo per la scudo si 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 guarda una santa che bestia cazzo comunque io penso che sta gente qua comincia ad aver paura di me perché veramente faccio delle cose sono un demolo un po qui ma da normal gas ti impedisce di spar di dio dalla spada non mi fa un cazzo dio cristo poi uno dice perché devi usare la spada ma da dietro la voglio fare vera sta spada no peccato sconfitta sconfitta ma stavolta ma la sono giocata la grande io veramente ho fatto un macello ad veramente se la torretta rimaneva di crisi 62 62 venturi non è forte sicura sicura c'è solo dal loro lato ce n'era solo uno un positivo vabbè e questa è stata bella e questa seda e allora buonanotte matte grande bella dai buonanotte ci facciamo delle ranked domani sera va bene va bene va comunque io cioè dai matte buonanotte ti lascio giocare ciao 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 io ragazzi non riesco a capire qua sto sbloccando di tutto ma mi continua a rompere i coglioni sul fatto che devo cioè tutti i tasselli in poche parole devo sbloccare cioè ma due palle due palle questo qua lo sblocco questo qua è un normalissimo cosa questo qui lo sblocco a breve e questo ecco questi qua sono quelli rossi quelli rossi come che si ottengono cioè devo morire boh boh è una roba strana comunque raga va bene va bene nessuno no way 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 ok ok il golf di tar andiamo parla partita ma non trova niente serio un po' assurdo ragazzi perchè il superi cioè sembrava tanta roba di buono invece Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le storm, madonna ragazzi. Siamo nel 2024, le storm. Porca fai. E' un'altra cosa che usa la storia, io l'ho avuto ma non funzionavano mai, io la tiro più perché l'ha attaccato. Confermato, UAV operativo in zona. Attenzione, movimento. Temici nel perimetro. Pro? Un bel riga di là. Eh, volevo cercare di farmi le kill per mettere la notte la teta ma... Non diventate allergici ragazzi. E' un peccato. Non mi spiega più ricca che spara. Ecco lì. E' un peccoglione. Quanto mi ci vuole la supercassata retta che non ho già ucciso i vienzi senza morire? Uff. Uff. Dai. Uff. Dai. Prossima postazione in minesse. insomma è fatta apposta proprio eh Dio Cristiano sicuramente devo morire per... vabbè guarda mira comunque bravo si blocca la corsa da sola no rilevami 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 e questa gente di cazzo è obbligata a usare di bomba perchè quando c'è da avanti il dio cobra cioè vedi dove vedeva sto scemo di merda Ebbene non mi sembrava tanto facile non è che c'è un divario di 10 kill dalle morti quindi un pochino avanti qualcosa ho preso sì ma io non riesco a capire anche quanti allora penso qua quasi finito me ne mancano forse uno o due penso che quanto l'habhab come funziona allora ok direi se non capisco capire l'indiano tipo per 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 capire ragù toccato allora vabbè questa è la più bella di paesi ma da pari sei veramente un labirinto di merda cioè dovunque ti giri ce n'è una che ti può arrivare di infatti non ha un cazzo di senso se entri dentro l'edificio ci sono 90 muri rotti e tu veramente non puoi capire da dove cazzo arrivano non lo puoi presupporre per il semplice fatto che fondamentalmente se tutti i tuoi sono a destra è facile che i nemici arrivino da sinistra almeno io non ho fatto Nemesis, grande brother ma cosa fai, come stasera non ci sei ma cosa, cos'è sta cosa, oh ti sei rotto il naso come hai fatto a romperti il naso che ti ha dato una ceppa nei denti e quando facevi giudo ti hanno capottato male e hai preso una nasata prendete l'area bersaglio area bersaglio localizzata scatturate la puntazione nemici qui però per anche te è morto questo ma dove eh devo prendere i cazzo di campioni ma di volta comitata batte eh vabbè però l'ha fatto apposta dai eh non può essere un incidente scusa che è un pezzo è un pezzo di merda che ti ha dato una gomitata perché non lo tiri su così il gomito cioè per prendere mica sei 1 e 95 quando sei alto mi hai detto lì per darti una gomitata sul naso del bastardo la fatta a porta ma che poi dice oh scusa non l'ho fatto apposta un cazzo pezzo di merda se non lo volevi fare apposta non alzavi il gomito con cosa mi ha colpito sto ah la baionetta è vero figo c'ho anche io la baionetta ma te sì sì dai cazzo te ne tutta l'arte che entra no non ci credo Robby questa cosa è staccando ah sei venuto a a dare l'estremozione no Ted dove cazzo sta a te va staccato perché domani si alza presto anche lui e io sto facendo un po' ma prima ho fatto un re-birth un re-birth in solo e cioè non è male comunque in solo un po' ci si diverte anche però in solo sai vabbè però bro nebbis dai vieni che te frega c'è non cagliato mi è scappato il tasto allora sto qua mica siluetto e dai oh cristo raga ma così via che non c'era uno io attacco tra dieci minuti ti trovo si si bravo grande ale bravo 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 anche qua Robby bastardazzo mi vuole lasciare da solo e dai fatti due muti Robby dai la sta qui la sta qui ah ok no perché mi hai detto mica sto sto staccando no ho detto tu stai staccando ah ho capito no ho capito che era una tua affermazione allora ho capito un cazzo infatti ho detto basta guarda che già mi molla neanche arrivato oh vabbè bastardo ora mai ma vabbè quello questo è un pezzo di cazzo quindi adesso arriva anche ale e sarebbe top anche se ne esiste se hai rotto il naso comunque Fee ti sei rotto il naso perché questi qua sono tutti quelli che ammazzi in gioco che te la gufano no e questo è il malocchio che ti prendi tutte le volte che giochi hai capito bro questi sono i malocchi degli altri player non mi ha cambiato l'arma porco diaz volevo switchare dio santo mi sono dimenticato che con questa con la spada non ho il parapitto oddio like no ho fatto un'azione bellissima video caro però peccato che mi hanno fatto avevo fatto il salto della fede riso che riso più riso è? non è tipo un personaggio di qualcosa no dov'è dov'è il bastardo ma come appena esci porca troia soprattutto quando sblocchi i droni quello è il malocchio si si mica ma ieri ne ha tirato tre droni di fila è un pazzo infatti io ho detto poi ti guarda che te lo cerchi poi bagno però mica fa bene che cazzo 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 non tira dritto manca a piangere la postazione imminente state pronti io non riesco a passare di là il linea ha tirato tre di fila di droni è arrivata tipo 90 kill con il big goal poi cazzo tutto tutto già santo oh ma porco dio guarda io spero soltanto che quel fucile il fucile quello di distruttore di mondi sia una sia qualcosa di funzionale perché per prendere tutti questi campioni del cazzo è un'altra a sinistra attento hai morto grande devo cercare di scoparmi sto qua sto qua no ma questo citta defy defy citta 100% citta perché è un deficiente madonna sono troppo un boss no guarda questo come mi ha sceso vediamo vediamo già si è arrivata dove uscivo ma più che altro che non so se hai notato il sei notato il laser come ti ha attaccato cioè ti ha attaccato in una maniera stranissima il laser cioè a centro petto la sua mira ti ha proprio seguito in modo un po' strano la sua mira ti ha proprio seguito in modo un po' strano oh ma a che livello sei che sei sempre in rank ed è che sei cremisi almeno di uomo o sei cremisi o sei ridescende robin ma io ma che cremisi che di scena cioè per essere sempre su the bird devi essere già diventato o cremisi o di the scena non me lo puoi raccontare no ma non lo sto facendo le rank ed mi rifiuto ah beh comunque lo diventi anche se non fai le rank ed cioè nel senso eh ma non ti sale il grado delle rank ah non sale no 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 però vabbè il livello normale il livello normale sì ah no è vero no che mi fa popolare mi fa popolare anche è vero è vero sì che è stupido non ci pensavo effettivamente Paul Paul mi pare che sei iridescente Paul no Paul stava non so se si è fermato stava quasi a cremisi però l'ha fatto spesso con con i random eh tanta roba eh infatti cioè riuscire ad arrivare in cremisi con dei random è il delirio cioè è improponibile ma Paul su ritorno è bravo ma anche su BR se avessi avuto un team iridescente ci arrivava eh ma anche io guarda io nel senso con un team con un team fai quello che vuoi cioè questo l'ho fatto eh sì ma devi avere un team di gente veloce sveglia che ti dà poi poi magari neanche tanto che sono skillati ma almeno che ti danno le info giuste no le core le core le core eh le core le core sì le core le info io vabbè le chiamo info poi tu chiamo le core però oh nel suo cacchio sì sì senza lo stesso cioè porca puttana di lato porca puttana provando a usare il car qua che da psicopatico popcore mi ha ucciso popcore popcore ballo UAV nemico attivo UAV nemico in zona postazione spostata conquistate l'area UAV nemico attivo quando vedo quando vedo che sti qua oh cazzo dove stava porca puttana ragazzi però sempre alle spalle dio cristo cioè non c'era uno dei nostri che spara che dio cristo si gira nel modo giusto porco di ma cosa c'ho t'ha reso di ok come mi sono stato trovato non lo so guarda robin delirio proprio pazzia pazzia c'è una cosa assurda guarda che c'è tanzio cercano di sfidare il dio cobra cioè io non capisco stanno benissimo e mi ha rubato il collo porca guarda 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 per battare uno da qua come ha fatto a vedere non ci credo non ci credo ragazzi non sono pensato a cazzo però di buono madonna che palle però porco di ma veramente non ce n'è uno dei nostri che sopravvive a un fighter non ce n'è uno che sopravvive a un fighter cioè non ti copre nessuno perché muoio un subito non ci credo non ci credo non ci credo stiamo a metà scontro e stiamo perdendo forza c'è qualcuno di là da bui no ma porco dio quello nella finestra c'è stato un pender cut dai però porco ma l'ho preso un pieno raga grande Ale vieni vieni arriva di qua dobbia arriva di qua madonna non l'ho visto col mirino acceso coltoddio è il mirino che mi ha fregato madonna che botta lì del lato vado mi sparo mi sparo mi sparo ricerca postazione state pronti ma che minaccia dopo questi qua nemici nel perimetro il nemico ha schierato 1 a vidi di turbo guardalo hard point ma non è possibile area bersaglio aggiornata raggiungete la postazione adesso qua lo riporta ragazzi io non so non riporta nessuno ma questo qua no ma questo cazzo è di multi team è hard point questo aspetto mica no questo fai questo fai io dove stavo si no anche a me è hard point cioè se è girato che mi ha molti team ma mi fuzza troppo mi ha inculato in un modo che è uscito ha mirato esattamente quel cazzo di angolo lì che era incastrato cioè dice boh vabbè poi mira da tante parti eh ma come è possibile che mi ha smicciato indietro di urkani no 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 città 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 ti apro ti apro di olai c'è sto multi team riporta la riporta la tua bastanza è reso che tira vabbè non ci credo eh io non sono uno che segnala mai però questo cazzo qua ragazzi non cioè non ha senso sembra quasi che ti segnalano la cioè mi ha tirato una granata non era ancora arrivato lì mi si è attaccato addosso cioè non è possibile cazzo è stato? ma facciamogli report a sto qua dai mica è un cheater sai che io non segnalo mai nessuno eh però quando c'è da segnalare c'è da segnalare no ma è impossibile infatti sono usciti tutti guarda si si no ma cosa di multi team io non guarda 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 come è mio a questo qua questo è la cioè questo era palese cioè questo era veramente palese non tanto lui a me invece quello che mi sospettiva di più era quell'altro però secondo me cosa succede che sto qua gli dava le info e gli diceva guarda che ce n'è uno là dietro perché probabilmente cosa succede che lui c'è un buon laccio però se quello lì è in team con lui gli dice guarda che è nell'angolino là guarda che è nell'angolino cioè hai capito e basta che sia uno che c'è il cheat e stai a posto allora Ale ti invito eh purtroppo è così purtroppo è così madonna allora c'è l'astrone invito anche l'astrone e dove sei? non ti vedo ancora no quello lì era quello lì era adesso voglio vedere un attimo aspetta un po' scusa eh com'è che si fa più? social ehm recenti lobby recente multi team si chiamava stavano? si multi team è a livello 43 grado 1 eh allora gioca con un controller quindi può avere tranquillamente tranquillamente qualsiasi tipo di macro di ds4 di ds4 bostato ok è un livello 43 grado 1 in ranked quindi questo qua praticamente è un account falso quindi praticamente si è fatto un account fake per poter giocare perché probabilmente è già stato segnalato hai capito? ma sicuramente non puoi essere a livello 43 e fatti quei risultati cioè neanche se sei un pro non esiste non esiste cioè quindi di sicuro perlomeno magari ma guarda non è nemmeno tanto per i risultati perché se sei bravo che risultati li puoi fare ma per carità non puoi sapere io dove sto se sto fermo stavo fermo disteso lui esce e mi mira direttamente alla testa no ma infatti sono sto d'accordo però io ho anche l'ultima clip che dava guarda caso la sua di cosa cioè l'ho l'ho visto bella lì ciao caro ragazzi io vado a bere arrivo tanto vi ho la patita bevi di bello canzone oh ma questi sono tutti livello 42-28 impossibile c'è di nuovo lui c'è di nuovo lui molti team guarda dov'è ah sono aspetta dov'è lo ricordiamo insieme non lo vedo eh sei quanti adesso la lobby c'è molti team molti team o B ah molti team o B è vero aspetta vediamo se sono se sono nella lobby opposta eh no 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 se non posso no no perché perché voglio cioè se era nella nostra lobby lo seguivo e volevo vedere cosa faceva essendo che sono nella lobby avversaria so già che citta e quelli probabilmente e ho visto che c'era anche hazard point e c'è quella gente lì sono tutti account fake eh quindi me lo possono pupare cioè io contro la feccia non ci gioco però sei visto prima nel nostro team hanno quittato tutti gli unici che sono rimasti siamo io e te un altro che non so chi era v-farm facciamo v-farm perché quell'altro fa veramente cacare peccato che il bro nemesis non può venire perché è stato tornasino eh ho visto i messaggi che si fa è basket basket no io gli ho detto io gli ho detto qualche pezzo io gli ho detto qualche pezzo di me l'ha fatto apposta lì con te vabbè gli ho tirato le schiaffi mi che è un metro e novantacinque però per il naso devi dargli una gomitata apposta a uno cazzo cioè io sono un metro e novanta se uno mi arriva con una gomitata in faccia gli spacco il crani con una testata di buono cioè come fai a darmi una gomitata in faccia cioè il tuo gomito è la metà del tuo gusto vuol dire che proprio l'hai alzato di buono per darmi la gomitata e dio cristo dai sì perché nel basket per fare per fare distanza no tu usi cioè praticamente usi i gomiti però i gomiti li devi puntare sulle spalle avversario sul petto non è urge vabbè a meno che lui non è caduto o una pallonata no 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 non mi ha detto una gomitata eh magari se l'ha passata no ma perché mi succede ma ti è mai capitato che come parte la partita ti si blocca la cam mi è capitato che dopo essere morto mi sono ritrovato mi sono ritrovato tutto storto tipo e si blocca la cam o no 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 a me ogni volta che ho fatto si avvia una partita mi si blocca la cam no basta eh scusa però t'ho salvato te ne ho dato che è uscito dal bunker passo per il tetto ecco oh mi stanno fregando tutte le kill porca troia poi finisce che mi ammazzano a me e mi fanno andare mi fanno andare su dietro dietro porca tra anche davanti dietro davanti che santissime salvataggio salvataggio ragazzi ma merda cosa ne pensate di di bodycam è un gioco iperialistico che sta uscendo ah ok no il nemico è intacto ma guarda sta coglione sulla finestra c'è un tipo sì ma c'è anche dietro l'angola porca madonna comunque questi dot qua c'hanno un colore che sono introponibili adesso ce lo metto rosso perché ho trovato un'arma sapete raga ho trovato un'arma non male non ho mai fatta così tu ti chiedo così velocemente eh ma hai trovato un loadout decente condividilo ci sono un'altra e ora ve lo condivido volentieri dopo te la faccio fare vediamo se ti può piacere ti ho fatto un'altra così easy c'è ok io c'è un bel drone io sono grande io sono uno svincolatore tipo riesco a svincolarmi da ogni fighter non hai ancora piazzato la torretta non ho ancora dio crimpano perché mi hanno ucciso prima li stavo facendo fuori un bel po' oh ma questi infatti che sto usando i superi cioè i superi dicevano minical superi no bestia a me sembra che l'hanno o depotenziato o hanno fatto qualcosa perché non fa più male come prima no vabbè raga a me mi è successa una cosa bellissima hai vinto 90 milioni di euro magari no stavo teamando con due persone che non c'entra un cazzo con noi avversari sta ti devi qualizzare con ma ho preso l'elicottero grande e dove vai con l'elicottero in giro 15 euro loro 15 euro loro c'è per parole stavo mirando uno davanti e di fianco mi passano due tipi sparavano insieme a te no era una nemica attenzione quello è bello Mi passano come per dire con me Resolgette vital Tento attento Ma cazzo corre questo Il suo compagno dietro lo sapevo Abbiamo un missiletto Devo prendere qualcuno Madonna pugge qua Lui è mancato Non Qui è lì? Non 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 Il suo compagno 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 Non 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 Ti No Dai No Dai Casual no purtroppo non sono io il colpivore è qua dentro allora cazzo è passato mi ha agganciato l'alto ma che cazzo c'è il soldato che questa prude mannaggia a te cazzo cazzo cobra beh non è equiparabile alle 90 kill e le tipo 4 morti di nemesis di ieri allora è il tac 56 fucile d'assalto ok ok tac 56 guarda ti confesserò che mi sa che ce l'ho già nel migliore dei modi il tac non so io mi trovo bene con quest'arma se vuoi trovarla te la dossa no si cazzi ti do io un bel settaggio del allora io volevo un parere vabbè ok scusa 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 devo cambiare una cosa qua e aspetta che parte la partita e poi dopo mi dai il parere incredibilmente sexy ci provavo una volta che riesco a fare una cosa che fosse buona hai conto che io il tac 56 l'ho praticamente sempre solo usato quello in ranked su mv2 sempre solo il tac 56 voglio provare a usare il car se i nemici non sono troppo dei sudati prima di prima di sparare col car devo mettermi là se ne ho vado dai dai devo la fai vantaggio vado un operatore nemico vado la fai 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 neanche me la data va bene va bene la percata che non si vede qua menzionava mina ragazzi la partita non è la carta ma donna che cazzo di che cazzo di numero l'ho fatto porca puttana no mica se invece che vantarmi stessi più attento forse ma cazzo sono scoppiato in arco perché sto qua che mi tira le granate di obono l'ho fatto ma come fa a passare di qua cristo la madonna ma daga ma si è lì? vabbè qua si cittano è che scusa non vi ho la città è stata B da robrocco da robrocco da robicodin dove cazzo è passato sta merda No, non pensavo che passasse dietro di fly Cioè, due colpi ci fanno il cuore Uav di disturbo stile in volo Uav di nemico attivo Ma porco, oddio Con il lanciacar si sta giocando questo Oh, il morco, oddio Che non riesco a pigliarlo Madonna, parola Madonna, puttana, non è possibile L'ho ritratta 90 volte Ma non me lo colpisce E ora, guarda qui Va bene, dai E' incredibile Gli ho messo, guarda A quello vestito a clown Gli ho messo tipo tre proiettili in bocca Non lo so, è impossibile E non è morto Bravi Va bene, ragazzi Eh, va bene A me ha dato tipo un attimo burst dati Di nuovo È sempre questo tipo Questo tipo ci fa tutti Guarda che pagliaccio Che clown di merda Che ha Questo è mine Allora, c'è tipo con La testa rossa Incappucciato Non so che cazzo è Se lo mirate Iniziate a laggare Eh, cazzo ci fai Cioè, sto qua sblocca la mina Quella lì Cioè, quella mina Come ti pira, ti pira Sei morto Non colpisco duramente Movimento Cazzo di coglione Ma guardalo Dentro Non ho fatto Poi c'è il clown laggiù in fondo Porca troia È quello vestito di bianco Di in mezzo Grazie Grazie Attento da te Da te Che c'è a destra Ragazzi Oh mio Peccato Vabbè col car Occillato di brutto Cazzo Cazzo Allembro che se mi sono sponato Questa qua Alla rossa Alla rossa Alla rossa Questa qua Ogni volta che mi avvicinavo Mi Mi laggava 10 Cisioni Ma anche a me ha dato Brust dati Diverse volte Che altro Io che laggo È molto 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 Difficile Perché C'è una storia lunga Con internet Che E sì Poi tra l'altro Te sei a Manchester No? Che hai detto? Sì Sì A parte quello Io tipo Per internet Ho fatto internet Ho guardato I dati I pad Da bla 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 Ho visto che Dicevano che Avevo tipo 5000 Gigabyte per secondo Bla 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 Era madonna Non era vero No Non era vero No Un esempio Non era vero Io Ho iniziato Ho iniziato a chiamare Ho detto Vedi Vedi che Io uso il computer Bla 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 Mi servono I dati Che voi Mi avete detto Bla 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 Ah sì 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 Adesso tutto La gestiamo Alla fine Dopo una settimana Vengono Ma la gestiamo E arrivo Tipo Che mancavano 10 megabyte Per arrivare A quello Che dicevano loro Prima del famoso Eccetera eccetera Gli ho mandato Tipo un'email Che io ero Che io ero Ordo FIFA Kill E quindi alla fine Mi hanno dato di più Di quello che io Prendo Io tipo Una volta a settimana Ricontrollo Guarda io Io ho due connessioni Una è buona Ma una è buona Invece l'altra È quella Che è quella Una è quella Che utilizzo Per streamare L'altra è la connessione Di casa Il fatto è che Una ho cercato Di togliere in ogni modo Perché praticamente Per mesi Mi hanno lasciato Senza Senza servizio Ma sti figli di puttana Non c'è verso Ogni espediente È buono Per farmela mantenere Il fatto sta che Devo aspettare Tipo per poterla Togliere un tot di anni Però il mio interesse Non è da toglierla Il mio interesse Il mio interesse Era che funzionasse Tosti schemi qua Porco disco La madonna Ma raga Ma come fai Di darmi da dietro Porco di Ma non è Non è da di colpi Non è da di colpi Perché ma no Oh è di lato Porco il cazzo Ma sempre Oh ma non ha senso Non vai in linea È assurdo È assurdo Oh ma è di nuovo Quello di prima Chi è? Quello Spoffield Ma questo non so Però ti dico Ti dico I colpi Non entrano Dio Cristo Ci sto schederando Di Linus Si muove Proprio Che è fuori E' fuori detto Ma che arriva puttano Devo zapparli Questi qua per ammazzarli Arriva di qua Arriva di qua E' uno che balla Lo shuffle Oh ha rotto il cazzo Sto stocking Porco oddio E' il tuo nemico Giurato Mi giuro Raga che io gli hito Gli hito Gli hito Ma puttano Eva Non A sinistra A sinistra Dobby Niente Di fronte qua Guarda Sto vendicato No Con la spada Cos'altro Gira con la spada Sono l'unico Che ha il diritto Di usare la spada E' uno Oh da dietro Puttana Ammazzato uno Ma è arrivato uno da dietro Il mio posticino Da destra Da destra Da destra L'altro Porco diaz Madonna Sto busta di merda Busta Da calafel Manco il cazzo Dio pallazzo Dio pallazzo Ja Vai Dio Solo Dio Quai Si In madonna oddio cristo dai però porco di gesto cazzo di vittor di merda sinistra raga sinistra sinistra in fondo sinistra in fondo e qualcuno è bastato lo vedi che è entrato lì madonna busta kraften porca lo sai che mi metto lì perché non c'ho voglia di correre di a piazza patata che coglioni che si cura veramente con un po' dell'effet Questa camberata tutta la partita qua dentro Quella con la pistolina mi spara da 200 km Non ho capito se prima il bombardamento arrivava fino la come fa ora arrivare non facciamoci domande Sono di là Roby L'altro 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 Io penso le mie armi Dai Nekam Cazzo fai Dio vuole Non ce la finisce Oh cazzo Ero colicato Ero colicato Qualcuno mi ha salvato la mia vita e ha fatto vincere L'abbiamo fatta la mia vita Grandi Bella please Mincia Un po' che mi dà il continuo però Sti dati E' porno non lo faccio più Fallo fallo Sì Sì ragazzi davvero con l'arma mi piace Esatto Esatto Cosa Cosa Quando lo smetti di scoraggiare me lo dici Dove vuoi fare che non funzioni Sto spennacchiando col naso Sì 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 Cosa Non ho seguito 1.6 1.4 Ok Va bene Aspetta perché ha di nuovo tagliato l'audio il caricamento 1.6 La cpu 1.6 1.6 1.4 1.6 Che vuol dire? La cpu Cazzo non so Per cento dice Che stai utilizzando di percentuale? Sì 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 Direi che va benissimo Come se lo stessi usando praticamente Oh ma c'è ancora un tipo di prima Dai Ballerino Andergame Ah L'ho preso L'ho preso in gu Stiamo prendendo Charlie Siamo sull'obiettivo Charlie Oh porco Dai Maggio cazzo Si sposta così a cazzo sto figlio di puttana Lui di un bastardo di merda Eh non potevo colpirlo subito eh Che mi sbarcava l'altra denta di ok Obiettivo Charlie Obiettivo Charlie sicuro Uami nemico in zona Maia Siamo sull'obiettivo bravo Oh ma mi danno due colpi dio cristo Dio cristo Dio cristo Dio cristo Ma adesso vengo con te qua sopra Come ha sparato? No lo so mi hanno sparato anche me Ma coglione adesso mica E adesso gli stacco la testa e' una del container non posso bloccarsi la cazzo di torre di tampace oh sto coglione che è parecchio già mi sta dando fattiglio eh tanto fattiglio e questo diventa fattiglio oh bene il nemico a charlie prendiamo alfa così madonna sto pazza di cazzo il nemico prenderà vangu ora prendeteli un nemico in zona mica il pieno ho preso tanto di battaroia pedro 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 il nemico cazzo la branca eeeeh andiamo sull'obiettivo alfa uavi nemico attivo il nemico prende bravo addio bastardo lo hittato tutte le cazzo di volte sto coglione di merda bastardo dio bastardo dio stiamo sull'obiettivo charlie il nemico prende alfa cerchiamo alfa movimenti stiamo sull'obiettivo sconfermando fuori fuori alleato pronto all'uso il nemico cattuna bravo fuori fuori nemico attivo stiamo prendendo charlie il vivo bravo compromesso riprendetelo i nemici hanno lanciato un missile cruise sconfermando fuori madonna mango hai dato il cazzo scemo di merda il nemico cattura charlie il nemico cattura charlie il nemico cattura charlie il nemico cattura charlie il nemico prende alfa il nemico prende alfa vaffanculo misile cruise allegato in uso perdiamo alfa alfa merdo Siamo sull'obiettivo Alpha Versiamo Charlie Lua Vidi di turbo è attivo Alpha sicuro Obiettivo Charlie contro lento Il nemico guadagna terreno Stiamo prendendo Bravo Siamo sull'obiettivo Charlie Uovi nemico in zona Il nemico prende Alpha Coriccati per terra la fe L'obiettivo Alpha compromesso Prendetelo Stiamo sull'obiettivo Bravo Stiamo sull'obiettivo Bravo Stiamo sull'obiettivo Bravo Stiamo prendendo Bravo Vedi ragazzi ma sto mango qua cosa sta Cioè che cazzo di Uovi nemico attivo Oddio lei Uovi nemico in zona No Dai non mi mica ma Comunque è assurdo Io non posso averlo mancato da lì Sicuramente ma Allora sto mango qua è un altro cazzo Mi mira sempre Dio Cristo mi piglia sempre 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 Eh vabbè ma è che fa con un colpo raga Sì questo mango qua ti shotta Sì eppure quando lo uso il MCZ fa cagare Esatto Che che buona Kaibok Eh si Kaibok Iaia Sto� neppare Ah ma sei tu No Sto mal compagno Ua vi nemico in zona Ua vi alleato in zona No No Oh, sto mancozzata per tutto Sì, sto manco qua è una merda di essere C'è la madre puttana questo Ti becca sempre, cioè dovunque sei Ma poi ti Cioè non è che ti spara Sì no ma si uccide ma non è che ti spara solo Mica quando ti spara ti disintegra Cioè tu non puoi neanche Non ti puoi sganciare E' solo lui, mi sta ammazzando Per quindici volte di più Sì, sì, praticamente sì Sono stupido È incredibile ragazzi Cioè guarda Oh L'ha tirato lì E' riuscito a uccidere anche me ragazzi Che ero a 20 metri È possibile Io ho provato a usare un po' il car Però Ma non mi dice Ogni tanto col car si fanno delle belle Delle grande belle partite Cioè se Se lo cominci a usare tanto E sei mezzo sveglio Comunque ti diverti Io faccio l'ultima ragazzi E poi via Ah io ti seguo Bordello Eh sì Bordello ragazzi Bordello E chi è che streama su YouTube E' famoso Dottor Disrespect Lui minchia Famosissimo Non è Eh A me piace quel tipo A parte Moonride Mi piace quel tipo che va il giro e canta Che rompe quel lì Ah Ah sì sì Ho capito Io guarda Adesso che è tornato Zeb89 Sono Cioè È l'unico che cago Fanno vento al vento Chi? Zeb89 Una leggenda Non è stata una leggenda di YouTube Italia Di buono Madonna Zeb89 l'ha fatto YouTube praticamente Cioè Poi c'erano tutti gli altri pagliacci Che lo seguivano Però Intendo Quelli che cercavano di imitarlo O che poi pian piano Sono diventati anche loro famosi Però Era gente che semplicemente seguiva L'onda No? Cioè Qual è il gioco Che giocano tutti E loro facevano tutti Minecraft Se tutti giocavano a code Facevano tutti code Erano delle copie Delle copie Lui invece Faceva tutt'altro Proprio cose che non c'entravano un cazzo Ma faceva schiattare Lo seguivano tutti Perché? Perché lui sapeva portare dei contenuti Ed era un personaggio Autentico Quegli altri Madonna Erano una cosa Wow Wow E' un'altra cosa E' un successo Faccia anche la cosa Che ci risponde È un personaggio Ma accage il culo con la gente che non sapevo che cazzo stavo dicendo perché era inglese gli parlavo in spagnolo era arabo gli parlavo in inglese che stavo se tante lingue giusto sfruttare madonna che palle sto scemo idiota imbecille di panice al porco di io la seconda chi che mi fa sto guarda guarda pagliaccio un porco di non sicuramente ci vede perché sa sempre dove sono finito di puttana il nemico controlla tutti gli obiettivi riscattatevi dovete morire con gli altri prendiamo charlie il nemico ha due obiettivi liberate quelle postazioni madonna che lag ma me sta laggando no un altro qua non capisco che stiamo pigliando alfa o la rampeggia ma io mi sto sparando ma è possibile ragà c'è penso che citta per forza perché guardalo io mi ero inflippato con un tipo che era tipo dietro una scrivania gli stavo sparando ma era morto e il nemico ha catturato due obiettivi città sono paniche di merda di alcun che adesso Cristo Leone sta camperato questa è la partita che ti arriva sempre quella alle spalle dio prendiamo charlie U.A.V. alleato in zona Siamo sull'obiettivo Charlie Obiettivo Charlie al sicuro Ok, arriva dalle spalle a cazzo Ma non nervoso E' uno lì Obiettivo Charlie al sicuro A metà scontro e stiamo perdendo Forza, perdiamo Charlie Alfa sicuro Lanzaro alleato attiva Il nemico a Charlie Oh, questo come si chiama? The Punisher Mi piace un movimento Ah, c'è un tipo di legno Guardati Guardati Però ti inchiappetta sempre Perché sembra che ti veda prima Ma a parte che ti vede prima A destra, a destra L'ho punito io Grande Eh ma sei già preso a qualche punizione anche da me Sembra che lo vedi davanti Poi alla fine ce l'hai dietro Oh allora Oh allora Finga E se me lo posso lasciare Ma dove è? Ma dov'è? Madonna sto mordino è un coglione Cioè Dio Cristo che palle Cioè Dio Cristo leone Ma dov'è porco Eh dov'è porco per voi era UAB nemico in zona Il nemico ha due obiettivi Riparate quelle cose Ci sono tutte e due E poi arriva quel coglione Di dietro Giustamente UAB nemico Ma mia tarretta Dorme Ma mia tarretta Dorme C***o Ma l'ha fatto Cioè Dietro per forte Come fa a cantare le ciali Dio Cristo E l'ha fatto De suscitare lì Raga L'ha fatto De suscitare lì E' tanto era quello E c'è Oste c'è Mozaneler Che è sempre lì Con il diato Porca 3 Con questo fucile Di merda Ma qual'ha fatto a prendere il C C'è Ma qual'ha fatto a prendere il C Il nemico prende Bravo Andiamo Dobbi Non capivo dove c***o E' Il coglione Anche Abbiamo perso Alfa E' questo Come c***o Uscita Questo Zepp E' Ma ciuccelo Mister Come c***o Che c***o Che c***o Che c***o Che c***o Che c***o E' Siamo Alfa Posso non dire le parole C***o C***o Sì sì Io non c***o Dimmi Il porco Di Dio La figlia di bottana di Cristo Leone Stava A me sta sul c***o Stava da l'aner Lo devo arare Dio Buono Kill shot Nemici in questa zona Arrivano tutti Sì Perdiamo Charlie Il nemico ha catturato due obiettivi Oh hai preso un c***o in bocca Mi piace Sembra che ti sia piaciuto Quella era una bella posizione E io ce l'ho fatta Purtroppo per noi Il nemico ha c***o in realtà Inzione compromessa abbiamo fallito Guarda che clown sto qua Guarda The Punisher comunque secondo me Era un dito in c***o Però vabbè Guarda io questa gente qua Ci vado solo di spada Non sto neanche a sparare Qualche volta di spada Li ammazzo Ma la soddisfazione Di aprirli in due con una spada Dai ragazzi Buonanotte Notte Notte Bella Bella Bella